50-75 si è conclusa così l'ultima partita dell'NPC che ha ottenuto il suo quinto successo consecutivo sul campo dell'Olimpia Cagliari per 75-50. Non siamo partiti molto bene ha spiegato coach Nunzi perché Cagliari ha messo tanta energia in campo all'inizio e noi non eravamo molto pronti ma piano piano siamo riusciti ad entrare in partita. Abbiamo capito anche come giocare, cominciato a costruire tiri un po' più aperti e a prendere dei vantaggi più ampi e lì la partita ha girato. Una grande difesa ci ha permesso di limitare Cagliari che era partita veramente bene. Dobbiamo tuttavia ancora migliorare perché abbiamo dei momenti di pausa che dobbiamo cercare di limitare al massimo. Sicuramente stiamo crescendo a livello difensivo, continueremo a lavorare sodo. Presto arriveranno anche gli impegni con le squadre di alta classifica dalle quali dovremo assolutamente farci trovare pronti.